8, 8, 8, vi taglieremo 8 per voi. Siamo pronti a chiudere il primo. Va Alessia alla rincorza di vitello, brava per Alessia. Numero, numero 1, il fischio di portare i vitelli. E adesso è notte a inseguire il tutello e per i primi di entrare in maniera. Andate a chiudere il tempo, alzo il braccio. 59, 39, 59, 39. Orizzontanove, Benino Cristiano, Mariano Gianni, Luca Puglione. A seguiremo il futuro. Grazie.